A Ortigia il G7 agricoltura e pesca. La regione siciliana ospiterà i rappresentanti di Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito e di nove paesi africani. Siamo onorati, ha dichiarato il presidente Renato Schifani, di ospitare questa importantissima iniziativa internazionale, un evento che evidenzia l'importanza strategica della nostra isola come fulcro di dialogo e cooperazione tra gli stati. La Sicilia si conferma protagonista non solo come terra di storia e cultura, ma anche come punto di riferimento per l'innovazione e la sostenibilità in ambito agroalimentare. Questa è un'occasione straordinaria, ha aggiunto il governatore, per evidenziare il nostro impegno verso la crescita economica e la valorizzazione delle risorse locali, creando ponti di collaborazione con le nazioni partecipanti. È stato il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollo Brigida, a scegliere l'isola storica di Siracusa come sede della riunione internazionale che per la prima volta riunisce agricoltura e pesca. Abbiamo scelto Ortigia, ha dichiarato Lollo Brigida, per rappresentare al meglio il sistema Italia. L'appuntamento, che si terrà a fine settembre, sarà un'occasione unica per mostrare al mondo l'eccellenza e la validità del nostro modello agroalimentare, in un luogo che racchiude storia, cultura, incontro fra i popoli, terra, mare e cibo. Il G7, che coinvolgerà attivamente il tessuto produttivo della Sicilia, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia come leader globale nella qualità e nella sostenibilità del settore, sarà anche una vetrina per le eccellenze agroalimentari italiane, attraverso una expo dedicata dal 21 al 29 settembre, intitolata Divinazione Expo 1924. La Sicilia, inoltre, si prepara ad accogliere il Summit con una serie di iniziative che renderanno l'evento ancora più memorabile, valorizzando il patrimonio culturale e turistico della regione. Una serie di spettacoli che faranno da cornice al G7, offrendo ai numerosi turisti presenti sull'isola l'opportunità di immergersi nelle bellezze della nostra terra.